Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 2 dicembre, sono le 16.30. Parto come al solito dal mercato italiano, dal Future Fuzzi Mib che questa settimana ha avuto un forte ribasso, l'analisi effettuata la scorsa settimana nonostante sia stata effettivamente azzeccata purtroppo ci ha portato abbastanza in basso con le quotazioni, avevamo detto che sembrava faticasse a mantenersi al di sopra del livello 27.000 e infatti venerdì, complice lo spauracchio della nuova variante della Covid, c'è stato un fortissimo ribasso che ha fatto perdere il 27.000, ha fatto perdere anche il livello 26.500 ed è arrivato molto vicino addirittura a 25.000. Poi per fortuna questi primi giorni della settimana c'è stato un tentativo di rimbalzo molto timido, anche se in realtà è ancora un movimento tutto sommato laterale. Quindi l'aspetto positivo è che probabilmente la discesa si è arrestata e se storno ci doveva essere, anche perché veniamo da due mesi di forte rialzo con un rally di Natale in realtà anticipato, quindi il mercato non dovrebbe più scendere, anche se fa molta fatica a salire e questo lo vedremo nelle prossime sedute e nella prossima settimana. Direi che al momento il livello da monitorare è il 26.000, finché rimaniamo con chiusura daily sopra il livello 26.000, abbiamo alcune chance affinché il mercato possa recuperare con target 26.500, se invece vi sarà chiusura daily sotto 26.000, purtroppo il target ribassista è 25.500. Comunque direi che lo scenario più probabile per la settimana prossima è quello di mantenerci laterali in congestione in questo trading range che ho appena citato. La situazione è analoga anche sul mercato tedesco, sul future DAX, un venerdì disastroso che ha fatto perdere l'importante livello 15.500 e si è portato verso il livello 15.000, soglia psicologica. Anche qui l'aspetto positivo è che il 15.000 è stato violato solo nell'intraday, ma in realtà non ha mai chiuso anche durante questa settimana sotto 15.000, quindi supporto molto importante che sostiene le quotazioni e però altrettanto una resistenza molto evidente sul livello 15.500 che non permette alle quotazioni di rimbalzare con forza come ci auspichiamo. Quindi anche in questo caso abbiamo una debolezza che però non dovrebbe far scendere ulteriormente le quotazioni e sicuramente purtroppo non un tentativo di rialzo, quindi sconsigliamo le operazioni lunghe. Per la prossima settimana anche qui lo scenario più probabile è quello di un movimento laterale in congestione fra l'ampio range dei 15.000-15.500. Passando al mercato americano, oltreo c'è uno, qui davanti ho il grafico dello Standard & Poor's 500, la situazione è meno pessimistica, meno grave rispetto a quanto visto per i mercati europei. Sì, ovviamente c'è un ribasso, siamo al di sotto dell'indicatore supertrend, del parabolizzare della media mobile, ma la discesa anche in questo caso sembrerebbe essersi arrestata in prossimità del livello 4.500, dove al momento c'è un supporto molto importante, considerando questo come una configurazione tra ieri e oggi di doppio minimo, tant'è che anche oggi abbiamo una seduta leggermente positiva. Quindi per quanto riguarda le prossime sedute, la prossima settimana sul mercato americano sono piuttosto ottimista, meglio rispetto ai mercati europei, e credo che assisteremo ad un rialzo, un rimbalzo, meglio definirlo, che possa andare a 4.600 e fino a 4.650, dove c'è una media mobile che potrebbe fare a questo punto da resistenza. Ma sul mercato americano mi attendo maggiore reattività al rialzo. Riguardo alle commodities, invece, iniziando con il petroglio, il crude oil, il mercato è decisamente a ribasso, al di sotto di tutti gli indicatori, trainato da una trendline ribassista. Qui entrare in posizione short forse può essere davvero abbastanza tardi, l'unica possibilità è aspettare un eventuale rimbalzo e quindi un rialzo dei prezzi, anche solo di breve respiro, non particolarmente ambizioso. Quindi a questo punto l'attenzione si focalizza sul cercare un minimo. che potrebbe essere quello di oggi a 62 e 43, visto che si sta formando un pattern doji, quindi un pattern di indecisione, un pattern in cui apertura e a momento quotazione attuale sono sullo stesso livello, nella parte alta della candela e quindi è un doji che ha un'accezione di natura rialzista. Quindi 62 e 43 potrebbe essere un minimo ed individuo per la seduta di oggi, ma anche per la seduta di domani e della prossima settimana, un segnale rialzista long sul massimo della giornata odierna di 67 e 36 con obiettivo almeno 70-71 dollari al barile. Quindi ipotizzando un minimo fatto oggi e quindi un rimbalzo di breve respiro, che deve avere un target non particolarmente ambizioso, ma da 67 e 36 fino a 70-71 credo che spazio per salire, considerato appunto la discesa dell'ultimo mese, fondamentalmente ci possa stare, quindi mi aspetto e mi preparo ad un'operatività long. Uno sguardo anche all'altra commodities, al gold, all'oro, direi che la settimana è stata l'insegna della più assoluta neutralità, qui non ci sono nessun tipo di segnale operativo, è un periodo abbastanza incolore e poco interessante dal punto di vista operativo. sta tentando di rompere al ribasso il livello 1770, ma lo sta facendo con poca convinzione. Non sta salendo, non sta scendendo, si muove fondamentalmente in laterale. Non credo che l'oro avrà un'accelerazione di bassista, anche se comunque siamo inseruiti in una pressione di bassista e di negatività, perché poi basterebbe una seduta semplicemente positiva, con una bella candela verde, per interpretare il grafico in modo esattamente opposto. Quindi qui si lavora più sull'intraday che sul multiday, quindi davvero è difficile dare una direzionalità per la prossima settimana. Anzi, credo che nelle prossime sedute si continuerà ancora con questo movimento di congestione laterale che non porta da nessuna parte fino a quando non verranno raggiunti, secondo me, alcuni livelli chiave per andare lungo, per andare short. E per quanto riguarda i livelli chiave per andare short, individuo il 1758, che è un breakout negativo, quindi un'applicazione di 1758 per andare short, oppure aspettare il livello 1814, dove passa questa media mobile, per andare long. Finché rimaniamo in mezzo a questo ampio trading range, io sconsiglio l'operatività. Infine, uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'euro-dollaro. Ecco, in questo caso l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata assolutamente corretta. Avevamo ipotizzato che il livello 1,1187 fosse effettivamente un minimo di periodo molto forte, dopo i fortissimi ribassi delle settimane e dei mesi precedenti, e che era arrivato il momento di un rimbalzo, cosa che appunto questa settimana si è verificato, non con grande forza, ma effettivamente c'è stato, raggiungendo il target sul livello quasi molto vicino a 1,14, e credo che lo raggiungerà. Quindi effettivamente siamo già in posizione long da 1,12,500, sono entrato in posizione il giorno 26, venerdì scorso, poco dopo la pubblicazione appunto di questa analisi, sul livello 1,12,50 sono entrati in posizione long, e sono ancora in posizione long, visto che sono in leggero guadagno. Credo che questo rimbalzo possa estendersi, adesso abbiamo davanti da attaccare alcune resistenze come la media mobile e l'indicatore super trend, e io sono in attesa che questo avvenga. Quindi su 1,14,10 credo che sia il target di questa mia operazione long, esattamente dove passa l'indicatore super trend. Quindi il rimbalzo c'è, adesso magari c'è qualche giornata di lateralità, ma credo che il rialzo, quindi un rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, ci stia e in un certo senso se lo meriti. Quindi posizione aperta da 1,12,50, manteniamo la posizione, ci aggiorniamo alla settimana prossima, ipotizzando, credendo e sperando appunto che il trend possa continuare ancora per un po'. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.